Devo dire che sul versante dei vaccini le nostre cooperative hanno sviluppato un'azione molto significativa, se dapprima c'erano alcune incertezze e titubanze da parte del personale, anche in cooperative sociali, in cooperative di servizi, quelle soggette già alla vaccinazione, che sono già state vaccinate, attraverso un importante lavoro di moral suasion, quindi di ragionamento, di discussione con i lavoratori, con i soci, abbiamo raggiunto le percentuali di vaccinazione straordinarie, perché possiamo dire che le nostre bari sociali al completo, escluso quelle piccole percentuali fisiologiche, ci sono vaccinate. Grazie